Amici della Geotech, oggi siamo in aperta campagna, stiamo facendo un lavoro di sondaggio di un terreno per cercare dei pozzetti dell'acqua. Siamo con l'invenio e con un piccolo scavatorino, vediamo adesso di procedere con la ricerca. Forse ne abbiamo trovato uno, che è proprio qua. Andiamo a fare un attimo il reset, cerchiamo di bilanciare bene lo strumento, facciamo una bella scansione e vediamo se riusciamo a trovare questo pozzetto a una profondità di circa 60-70 cm. Eccolo qua, secondo me ci siamo. Andiamo a Ruspa in azione, tra pochi minuti sapremo se abbiamo centrato l'obiettivo oppure no. Un pozzetto, un pozzetto, eccolo qua. Un pozzetto di rete metallica, eccolo qua. Sì, l'abbiamo trovato. Sì, l'abbiamo trovato. Perfetto. Proprio sotto lo scavo. Ottimo strumento, anche per lavori di questo tipo. Alla ricerca del secondo target. Adesso lo andiamo a centrare. Un secondo. Qui. Video in diretta con la scavatrice pronta. Qua. Segnaliamo la presenza di un oggetto. E andiamo subito a cercare il secondo target. Ottimo strumento, il Nocta Macro Invenio, per la ricerca di masse ferrose ad elevate profondità. Sempre sul secondo target. La scavatrice si è messa in una posizione più comoda. E andiamo a tirare fuori il secondo pozzetto smarrito nel corso degli anni. Vediamo a che profondità riesce a lavorare questo strumento. No, no, lì, lì. Vai. È tutto in diretta. Quindi Rumori Parole Sono Diciamo che non è una cosa preparata. Tutto live. Vai, più giù, più giù. Andiamo a fondare la penna. Vai, di favore, guarda, 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 guarda. E ancora, ancora, ancora giù. Vai, vai, giù, giù. Adesso, eccolo, preso. È lui, è lui. Vai un po' più alto, l'hai alzato tu adesso. Perfetto. Sì, sì, era lui, era lui. Sì, era lui, era lui, l'ho visto io. Eccolo qua. Adesso scendiamo nella buca e andiamo a visualizzare il secondo target. Scusa, un secondo. Eccolo qua. Sì, trovato. Ottimo, è lui. Provato anche il secondo target, grazie a questo fantastico strumento, Octa Macro Invenio. Abbiamo centrato anche il terzo target. Ottimo lavoro per oggi. E un saluto dalla Geotex Center.